Domani si rientra a scuola, lo ha deciso la task force regionale. L'assessore Roberto Lagalla ha dichiarato che non ci sono le condizioni giuridiche per derogare ulteriormente. Sarà in presenza per i bambini sani, in DAD per coloro i quali sono in casa positivi. La Galla ha aggiunto che è in zona rossa o arancione, soltanto in determinate condizioni è permessa la DAD e le condizioni sono, come già ha ribadito più volte, la relazione dell'ASP che dichiari che dato il numero dei positivi non si consiglia di tornare in classe. La Sicilia è ancora in zona gialla, mentre Caltanissetta è in zona arancione. Il sindaco chiederà che la relazione venga messa per Caltanissetta, nero su bianco, anche con tanto di firma del responsabile dello spento, perché pare che la situazione, secondo l'ASP, non sia così grave per gli studenti da non rientrare a scuola. Irresponsabile la scelta di rientrare in presenza in queste condizioni, così è stata accolta la decisione del governo regionale dai dirigenti provinciali del Partito Democratico, il segretario provinciale Giuseppe Di Cristina e la consigliera comunale Annelisa Petitto. Le scuole non possono sospirire alle mancanze e alle inefficienze di un governo regionale inadeguato, scrivono in una lunga nota e non possono pagare le colpe di altri. Gli studenti e le studentesse e la scuola non possono essere l'ennesima vittima sacrificale, così l'appetito è di Cristina. Occorre contemperare diritto alla salute e diritto allo studio, quindi richiesta di un puntuale monitoraggio sanitario, potenziamento delle vaccinazioni anche all'interno delle classi, una particolare attenzione al distanziamento interpersonale, alla cura e al controllo dei trasporti. Sono tutti obiettivi che per quanto di nostra competenza la regione adempirà e che per quanto riguarda invece competenze statali saranno trasferite alla sensibilità del governo nazionale. Grazie. Grazie.